Come è il microbioma del bambino? Come è il microbioma del bambino? Un'ultima strategia che sta attirando molta attenzione è quello dei postbiotici. Sappiamo che il microbiota è ok, sappiamo che i probiotici possono influenzare positivamente il microbiota e la salute dell'uomo. Come è il microbiota e la salute dell'uomo? Gli acidi grassi a catena corta, per esempio, alcuni peptidi prodotti da questi batteri hanno un potente effetto di immunoregolazione, quindi protezione delle infezioni immunomediate. Questo permetterebbe di risolvere una serie di problemi. La sopravvivenza dei batteri e dei probiotici nelle confezioni farmacologiche attualmente in uso, l'utilizzo del probiotico vivo, la sua termostabilità, la sua stabilità quando assunto insieme ad altri alimenti. Quindi tutti questi tipi di problematiche possono essere risolte dall'approccio postbiotico. Esistono già delle evidenze scientifiche che questo approccio, per esempio alimenti fermentati con alcuni probiotici di origine umana che vengono inattivati al calore, in pratica vengono uccisi, mantengono un effetto positivo in termini di protezione del bambino dalle infezioni gastrointestinali o del tratto respiratorio. E sappiamo anche quali sono i meccanismi di azione. Stiamo cominciando a individuare tutte queste sostanze. C'è un fortissimo effetto immunomodulante e questo porta a un effetto positivo a livello immunologico e anche di regolazione a sua volta del microbiota intestinale. Stiamo collegando queste modulazioni del microbiota intestinale con gli effetti positivi sul sistema immunitario. Quindi come potete vedere il circolo è completamente chiuso a questo punto. Abbiamo la possibilità di dominare tutti i vari passaggi e quindi adesso è tempo di mettere in atto nella pratica pediatrica tutte queste conoscenze, ovviamente sapendo selezionare da parte del clinico e del pediatra quali sono le conoscenze che hanno una rilevanza maggiore e quelle che invece hanno ancora un livello di evidenza non soddisfacente per poter giustificare un uso nella clinica pediatrica.